Le zone 30 dove il limite massimo di velocità per i veicoli viene portato a 30 km all'ora rispetto ai 50 km orari previsti nelle aree urbane si faranno ma occorre attivare una serie di attività affinché possano funzionare. C'è la necessità di intervenire anche con altri strumenti come impianti semaforici uno per tutti all'incrocio di Corso Garibaldi. Lo ha ribadito questa mattina l'assessore alla sicurezza del comune di Salerno Claudio Tringali pensando di attivare nuovi strumenti che possano ridurre gli incidenti stradali e provocare meno morti sulle strade proprio all'indomani dell'ennesima vittima della strada in città la morte della giovane ricercatrice universitaria del Kazakhstan investita da un'auto nella curva del Teatro Verdi di Salerno. Via Stanislao Lista dove proprio in curva ci sono le strisce pedonali a prescindere dalla dinamica dell'incidente che purtroppo ha causato la morte della giovane donna l'assessore Tringali ai nostri microfoni ha rilevato anche che c'è un altro aspetto da non trascurare sul fronte della sicurezza stradale. A Salerno c'è una cattiva distribuzione degli attraversamenti pedonali che spesso sono stati fatti senza criterio. Occorre dunque intervenire per rimodulare la segnaletica orizzontale della città di Salerno che in alcuni punti risulta pericolosa. Le zone 30 si faranno ma non è un percorso che si scrive su un foglio di carta. Occorrono segnaletica, identificazione precisa delle zone, noi le abbiamo fatte. Occorre contemperare la velocità in alcune zone e in alcune strade. Ci sono le strade urbane e le strade extraurbane. Occorre poi far seguire all'istituzione delle zone 30 il controllo della velocità nelle zone 30 perché se noi ci limitiamo solamente a istituire le zone 30 con tanto di segnaletica ma non controlliamo che poi effettivamente vengano rispettate le prescrizioni non abbiamo risolto niente. Dobbiamo anche intervenire con altri strumenti. Molto importante sono i semafori. In questa città c'è una scarsità di semafori. Bisogna intervenire in alcuni punti dove occorrono. Uno per tutti l'incrocio di via Cilento con Corso Garibaldi dove succedono spesso incidenti e dove è inconcepibile che non ci sia. In lungomare occorre bloccare la velocità. E come si fa? Attraverso i semafori, attraverso i cuscinetti berlinesi, attraverso le bande sonore. Tutto quello che si può mettere. Però ci vuole una volontà decisa, intransigente dell'amministrazione di procedere in questa direzione anche dotando con finanziamenti e con risorse economiche quello che c'è da fare. C'è da considerare anche un altro aspetto. Sicuramente la dinamica dell'incidente di ieri sera è tutta da verificare ma spesso le strisce pedonali si ritrovano in prossimità di incroci dopo una salita come nel caso del Teatro Verdi dove purtroppo ieri sera è accaduto quanto è accaduto e potrebbe essere esclusa l'alta velocità. Io questo non lo so. Un incidente come quello di ieri sera, forse anche a 50 km orari si sarebbe verificato. Questo che dice lei è verissimo. Qui a Salerno c'è una cattiva distribuzione degli attraversamenti pedonali che sono fatti spesso senza criterio e sono fatti spesso in maniera attaccata all'altro. certe volte. Un palazzo ha a disposizione due attraversamenti pedonali. Mai visto. Occorre intervenire su questo. Ma io lo so questo. E quel punto lì mi terrorizza perché ci passo e mi rendo conto della pericolosità. Come mi rendevo conto della pericolosità dell'incidente mortale che si è verificato all'altezza del Gran Hotel. E voglio dire che queste sono cose che... Si avverte un'altra urgenza, quella di ripetere anche la segnaletica orizzontale. Sì, ma non solo la segnaletica orizzontale. Sicuramente anche la segnaletica orizzontale. Ma il problema è che se io sono solo io e con i buoni tecnici che sono uno più bravo dell'altro, cioè l'ingegnere Massandrea e gli altri che lo quadiumano, insomma, per il resto... Grazie a tutti.